Questo è il momento in cui smettiamo di essere dove siamo e in cui andiamo dove vogliamo Chiudi gli occhi Tu sai già dove vuoi andare, giusto? Dovrò uscire per procurare qualcosa Davide Non abbiamo scelta Dicono che alcuni li hanno portati via con dei treni e che presto prenderanno un po' noi Non ci succederà niente Cosa sono questi segni? Nulla mamma Solo un sogno È stato un incubo? Non era un incubo Era strano C'era un uomo E anche una donna E c'era anche un'altra persona Era anziana E ripeteva un nome Che nome? Manuel Mi hanno detto che tutto sarebbe finito entro 15 giorni Che cosa dovrebbe finire? Tutto Se dovesse succedermi qualcosa Voglio che la prenda tu Adesso che il conteggio è finito Che cosa dovrebbe succedere? Io non sono qui Io non sono qui Io non sono qui Ciao 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 Grazie.